Le ragazze hanno poi il diploma per insegnare l'economia d'olentica. C'è la linea della vita, se le scuole devono impegnare molto per sconfiggere le famiglie a mandare la linea a scuola perché soprattutto le ragazze appartengono a famiglie e pochi ambienti e provengono da tutta l'isola e anche da molte altre regioni del meridionale. La scuola si monta da circa 550 all'anno, cioè sono state a scuola tra i anni dal 39 al 53 e la scuola di avviamento funzionerà dagli anni 63-64. Inoltre, oltre a studiare le materie come l'italiano, la zona, la giornalità e la matematica, questi ragazzi studiavano un'attività come il campo, il riuscito e facevano anche un'attività a proposito di questa foto, le due ragazze inquadrate dalla freccia sono la signora Viola Battaglia che è qui con noi. Grazie. 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 Durante gli anni del fascismo molte circolari lettere documentano come ci sia da parte del regime un attento controllo a tutte le disposizioni in partite siano applicate. In particolare si insiste sull'iscrizione al fascio da parte dei professori che non sono ecclesiastici e sull'istituzione dell'ora di cultura fascista durante la quale un docente deve bussare alle alunne gli ultimi avvenimenti e impartire i valori del fascismo in particolare sui principi ranziani. Le alunne sono obbligate a iscriversi alla cinta per la quale si fa una tassa di segnale necessaria è la partecipazione ai giochi samiginici dai quali si è sentati solo per dare molti tipi. Le animate femminili si svolgono nel piazzale davanti al palazzo Morgera e durano in genere con più di un'ora, mentre quelle maschili nel piazzale retrossante il palazzo del Policidio. Non sono una divisa formata da camicetta bianca, gonne e cravatta nera. C'è un severo controllo sull'adozione dei libri di testo, infatti come si testimoniano alcuni documenti, alcuni libri sono stati messi a bando perché contenevano letture proprio rispetto ai settimali del fascismo. I documenti di questi anni ci sono diversi informazioni per quanto riguarda i ricoveri e le squadre antiaeree e le squadre di pronto soccorso e seguite nelle scuole dalle scuole. In questi anni le donne frequentano in modo regolare e anche un programma informativo di organizzazione. ... 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